Compatrioti americani, voglio parlare con voi stasera della necessità di abbassare la temperatura della nostra politica e ricordare che anche se possiamo dissentire non siamo nemici, siamo vicini, siamo amici, colleghi, cittadini e soprattutto siamo tutti americani. Dobbiamo stare uniti e abbassare i toni. Il tragico episodio di ieri alla manifestazione di Donald Trump in Pennsylvania ci invita a fare un passo indietro, a valutare dove ci troviamo e come andare avanti da qui. Fortunatamente l'ex presidente Trump non è gravemente ferito. Ho parlato con lui ieri sera. Sono grato che stia bene. C'è un'indagine in corso. Non sappiamo ancora il movente dell'attentatore. Non sappiamo le sue opinioni o affiliazioni e non sappiamo se abbia ricevuto aiuto o supporto o se abbia comunicato con qualcun altro. Al momento gli investigatori delle forze dell'ordine stanno cercando di rispondere a queste domande. In America non c'è spazio per questo tipo di violenza o per qualsiasi forma di violenza. E dunque gli Stati Uniti non devono trasformarsi, dice il presidente Biden, in un campo di battaglia. Leggo anche le agenzie che riportano l'ultima intervista di Donald Trump a bordo dell'aereo che lo sta portando a Miluocchi, un'intervista al New York Post in cui dice non dovrei essere qui, dovrei essere morto e fa un riferimento a Dio che lo avrebbe aiutato in questa situazione. Dice è per Dio che sono ancora qui. Quindi in qualche modo Corradino Mino strizza l'occhio all'elettorato più sensibile e poi aggiunge, riferendosi alla foto iconica di lui che si rialza e con il pugno alzato dice fight, fight, combattete, battaglia. Spesso bisogna essere morti per avere una foto così. Allora diciamo che è ovvio che in questo momento prevalga da Biden e da Trump la narrazione di un solo grande paese sotto un unico Dio, che è un must della storia degli Stati Uniti d'America. Ma la faglia che divide la società americana è profondissima. I migranti, le minoranze, i diritti come l'aborto e se puntare sulle organizzazioni internazionali o sulla diplomazia face to face, se puntare sugli alleati o invece fare da soli, se costruire l'America con il diritto alla felicità del borghese e una larghissima autonomia degli Stati oppure se puntare su sempre nuove frontiere, quindi su uno Stato federale che interviene e poi l'ecologia o il diritto al diesel per spendere di meno. Quindi questa faglia profondissima non è che si risana perché naturalmente c'è questo appello pure molto americano di Trump e di Biden all'unità. Io dico per concludere che dopo il faccia a faccia Biden-Trump, Biden aveva perso le elezioni. Con quel volto, con quel pugno e col fight Trump avrebbe dovuto averle vinte. Ma mancano 110 giorni e la pancia dell'America può gorgogliare in modo bizzarro, quindi...